Matteo 8 dal versetto 23 fino al versetto 27 e come invito sempre la Chiesa vogliamo mentre che leggiamo dire allo Spirito di Dio Signore parla al mio cuore così è scritto in Matteo al capitolo 8 dal versetto 23 il Signore sia lodato Gesù salì sulla barca e i Suoi discepoli lo seguirono ed ecco si sollevò in mare una grande burrasca tanto che la barca era coperta dalle onde ma Gesù dormiva e i Suoi discepoli avvicinatosi lo svegliarono dicendo Signore salvaci siamo perduti ed egli disse loro perché avete paura o gente di poca fede allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia e quegli uomini si meravigliavano e dicevano che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono fin qui la lettura della parola di Dio un passo consecutivo a quello che abbiamo letto infatti se avete fatto attenzione Gesù prima di salire su quella barca ovvero il passo che abbiamo letto insegnò ai discepoli cosa significava seguirlo e se invece magari a casa o dopo leggete il passo successivo ecco che dinanzi a noi c'è la guarigione di due indemoniati e magari vi starete chiedendo ma perché questo collegamento sono forse collegati non so se ci avete mai meditato ve ne siete mai accorti ma vi garantisco fratelli e sorelle che questi passi sono concatenati alla perfezione un po' come tutta la parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse essa è divinamente collegata Gesù prima spiegherà ai suoi discepoli infatti come seguirlo cosa comporta seguirlo e quei discepoli che ebbero intenzione di seguire Gesù almeno i dodici che salirono su quella barca videro con i loro occhi che seguire Gesù non era tanto semplice seguire Gesù comportava delle rinunce seguire Gesù comportava delle difficoltà e quelle difficoltà furono fra le prime appunto la tempesta in mezzo ad un lago mentre che infuriava ebbero tanta paura ora in questo passo fratelli e sorelle non c'è un semplice evento climatico che scosse la vita di quei discepoli non dovete vederci solamente perché poi vedremo il perché appunto un evento climatico burrascoso che mosse quelle acque quella barca stava quasi per affondare se voi infatti leggete il passo successivo vediamo che Gesù stava passando insieme ai suoi discepoli quella riva quelle rive per andare a Gennesaret andare a liberare due posseduti e voi non pensate che il nemico delle nostre anime si stava ribellando con tutte le sue forze non voleva che quella barca arrivasse a destinazione pensate che forse avrebbe in qualche maniera lasciato passare Gesù con i suoi discepoli in maniera indisturbata oh no fratelli il diavolo il diavolo non piace quando noi prendiamo sul serio il Signore quando noi lo vogliamo servire soprattutto quando noi vogliamo fare la sua volontà ma andiamoci per gradi innanzitutto dicevo cosa significa seguire Gesù e in particolare cosa ne comporta Gesù fece questa bellissima spiegazione su cosa significava seguirlo e come abbiamo letto prima della preghiera qualcuno di questi o almeno la totalità di questi che risposero a quell'appello in qualche maniera presero delle scuse Signore fa che prima possa salutare i miei cari Signore fa che prima io posso pensare i miei affari Signore fa che io prima pensi alla mia vita e dopo ti seguirò ma fratelli e sorelle quante volte quanti sermoni abbiamo ascoltato dove si diceva che servire Dio costa rinunce ora chi di noi si è preso coraggiosamente la briga di seguire il Signore io spero che tutti voi fratelli e sorelle giovani abbiate detto Signore ti voglio seguire ma sappiatelo che nel momento in cui avete scelto consapevolmente sì perché è una scelta consapevole oltre a essere una scelta coraggiosa nel momento in cui lo abbiamo fatto è come se avessimo dichiarato guerra al nemico delle nostre anime infatti dirà il Signore per mezzo di Paola nell'epistola agli Efesini al capitolo 6 il vostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro le potenze le potestà i principati che si trovano nell'aria è seguire Gesù fratelli e sorelle oltre a tutte le rinunce oltre a tutte le difficoltà oltre ad ogni situazione avversa che si può scagliare contro la nostra vita accende un combattimento spirituale non siamo stati salvati per stare nei nostri agi nelle nostre comodità nel momento in cui e spero che ve lo scriviate nel cuore oltre che nella mente abbiamo detto sì al Signore nel momento in cui abbiamo ingaggiato questo sposalizio con Dio abbiamo dichiarato guerra al nemico e il diavolo fratelli e sorelle farà di tutto per scoraggiare la nostra vita ora stava provando con quella tempesta poi vedremo il perché dico che era qualcosa non di climatico non qualcosa di naturale ma qualcosa scatenata proprio dal nemico affinché quella barca non arrivasse a destinazione Gesù dopo aver spiegato cosa comportava seguirlo ecco che c'era la lezione pratica vi insegnò prima la teoria e adesso lo mettiamo in pratica il Signore salì su quella barca e gli sapeva che il nemico gli avrebbe fatto guerra per attraversare quella sponda e i discepoli non lo sapevano ma l'avrebbero scoperto molto presto ed ecco che quelle onde si fecero alte quel vento si fece impetuoso e c'è una frase che abbiamo letto no Gesù si addormentò sappiamo che il ministerio di Gesù era stato caratterizzato è stato caratterizzato da tanta fatica egli era vero Dio è vero ma egli era anche uomo e così Gesù umanamente era alle volte anche stanco leggiamo nella Bibbia che egli provava compassione il suo lato umano pianse no uscì diverse volte e il nemico come in altre diverse occasioni voleva provare il ministerio di Gesù proprio nel momento di stanchezza quante volte anche noi siamo stanchi è vero nel cammino si ci stanca fratelli e sorelle il diavolo ci prova sempre ora Gesù che è l'onnipotente l'iddio incarnato vero colui che era vero uomo e vero Dio certamente non poteva essere preso di sopra salto ma noi noi sì se non stiamo con Gesù affondiamo fratelli e sorelle se noi non stiamo col Signore se non ci mettiamo in comunione con Dio affondiamo ve lo garantisco il diavolo in tante occasioni dove Gesù si ritrovò stanco ve ne porto alla mente qualche altra vi ricordate quando il Signore stiede 40 giorni nel deserto ecco che subito il diavolo che fece lo andò a tentare ed eccolo di nuovo dopo che Gesù aveva operato diversi miracoli e si addormentò su quella barca ecco che anche il nemico lì si ci presentò e poi prima di salire sulla croce chissà che guerra il diavolo gli fece egli voleva ostacolare il piano di Dio per l'umanità anche in quella circostanza e in quella tempesta fratelli e sorelle il Signore non fu preso alla sprovvista però dicevo i discepoli i discepoli che fecero dubitarono dubitarono del Signore lo videro dormire quasi dissero ma come Signore noi stiamo affondando e tu non ti prendi cura di noi sì Gesù era fisicamente lì ma loro pensavano che egli le aveva abbandonato in quella stanchezza forse qualcuno di loro era digiuno era approvato era stanco e chissà quante volte nelle nostre giornate nel nostro lavoro nella nostra quotidianità siamo stanchi e rimproveriamo Gesù ma come Signore io ti prego io vengo nella tua casa io ti servo e tu che fai dormi Gesù non stava dormendo eri era attento a quelle che erano le attività spirituali che si erano scagliate in quella burrasca in quella occasione sapete perché dico che lì non vi era soltanto un evento climatico Gesù in questa occasione utilizza un termine che egli utilizzava quando sgridava gli indemoniati e il termine in greco che veniva utilizzato proprio quando Gesù sgridava gli indemoniati lo ritroviamo al versetto 26 ve lo rileggo dice i suoi discepoli avvicinato lo svegliano dicendo Signore salva ci siamo perduti continuo ed egli disse loro perché avete paura o gente di poca fede ascoltate bene allora alzatosi egli sgridò i venti e il mare ecco questa parola sgridò Gesù la utilizzava o gli scrittori sacri la utilizzano per descrivere l'episodio o la realtà che Gesù viveva quando lui si prestava a sgridare gli indemoniati questo vento che fu calmato dal Signore questo mare che fu tranquillizzato lo potremmo paragonare quando Gesù ad esempio gli portavano qualcuno che era indemoniato qualcuno che soffriva di problemi spirituali ed ecco che il Signore sgridava quello spirito del resto Gesù stava attraversando quel lago per o andare a Gennesaret e Gennesaret fu una bella gatta da pelare per il nostro Signore perché in quella cittadina il diavolo aveva preso il sopravvento ed egli come vi dicevo non voleva che quella barca giungesse in porto egli non voleva che quella barca giungesse in quella cittadina affinché quella guarigione di quegli indemoniati beh fosse compiuta vi dicevo fratelli e sorelle che il nemico proverà sempre soprattutto quando noi siamo sconfortati siamo in qualche maniera lontani da Dio a distrarci dal nostro servizio e in particolare a non farci vedere Dio all'opera nella nostra vita ora se ti trovi in questa condizione se magari è un periodo della tua vita dove pensi che il Signore non si stia occupando della tua vita come quei discepoli Signore che fai dormi beh ti posso garantire che il Signore in questa sera vuole visitare la tua vita un po' come egli dopo si alzò e sgridò quei venti ci sono dei venti delle tempeste ci sono delle acque fratelli e sorelle che soltanto Gesù può calmare quei discepoli non l'avrebbero potuto fare non soltanto perché quello non era un episodio climatico normale ma perché lì c'era tutta la potenza dell'inferno scagliata contro quella barca vi immaginate no nel momento in cui Gesù mise il piede nel territorio di Gerasa l'inferno come tremò ecco perché quella barca non doveva arrivare a quella destinazione e il diavolo vorrebbe la stessa cosa con la nostra vita nel momento in cui dicevo prima della preghiera abbiamo promesso fedeltà al Signore abbiamo promessa fratelli e sorelle è vero vogliamo servirlo il Signore nel momento in cui la nostra barca vuole arrivare a destinazione nel momento in cui abbiamo deciso di seguire Cristo ecco che i venti di tempesta si scatenano ma la cosa importante in tutto questo episodio sapete qual è che Gesù era su quella barca se Gesù fratelli e sorelle si trova nella barca della nostra vita si potranno scatenare le più grandi tempeste il servizio ci potrà costare tanto ai fini della nostra vita anche materiale intendo il servizio potrà essere difficile ma se Cristo è all'interno della nostra barca chi si potrà mettere contro i figli di Dio se il Signore è per noi potremmo recitare così chi potrà essere contro di noi Gesù aveva un obiettivo ben preciso insieme con i discepoli far sì che la gloria di Dio arrivasse in tutta la Galilea fino alla Samaria e potremmo dire come scritto nel libro degli atti al capitolo 1 fino all'estremità della terra e certamente quei venti contrari quelle potenze che si erano scatenate dinanzi quella barca non poteranno fermare il ministerio di Gesù se noi fratelli e sorelle siamo e restiamo in Cristo se noi decidiamo di nasconderci ogni giorno dietro quella croce quel legno che è la nostra salvezza se ogni giorno noi ci sforziamo di preoccuparci di avere il Signore nella nostra barca senza dubitare un po' come invece non fecero quei discepoli beh noi saremo custoditi in maniera gloriosa nella mano del nostro Signore Gesù rimproverò quei discepoli gli disse perché avete avuto paura gente di poca fede ora quella paura era una paura non normale una paura di perdere tutto quello che il Signore gli aveva dato fino a quel momento e forse stai vivendo la stessa paura ora non fare sì che il Signore possa rivolgere lo Spirito di Dio possa rivolgere lo stesso rimprovero a te perché gente di poca fede ha avuto paura noi questa sera siamo alla presenza di Dio e vogliamo dire Signore ti prego continua a rimanere sulla mia barca costi quel che costi sì le onde si fanno alte il vento oh è impetuoso il nemico mi fa battaglia dalla mattina alla sera ma per quello che mi competa ti prego aiutami ad avere fede in te Signore esclamarono salvaci Signore salvaci siamo perduti almeno riconobbero di avere bisogno del Signore non è qualcosa di immediato ora si può comprendere che un'eternità lontano da Dio non è qualcosa di buono si può comprendere magari frequentando la Chiesa da tanto tempo che se non si sceglie Cristo l'eternità sarà un'eternità veramente di oppressione si può comprendere questo ma non è così immediato dire Signore salvami non è così immediato fare questo passo ora se questa sera ci troviamo qua e c'è qualcuno che non ha fatto ancora questa richiesta quella salvezza quel miracolo glorioso sei ancora in tempo forse vedi le onde forse vedi il vento contrario c'è una cosa che dobbiamo fare o che devi fare gridare a Dio con tutte le tue forze dire Signore salvami perché altrimenti sono perduto fratelli e sorelle non ci sono mezzi termini mi avvio alla conclusione Gesù ha certamente avuto un piano per quegli uomini e stando vicino a Lui quegli uomini non solo videro la tempesta calmata videro morti ritornare alla vita videro le brosi guarire videro Lazaro uscire da quella tomba videro tanti miracoli videro venire su di loro lo spirito di Dio ma per vedere tutto questo bisogna seguire il maestro costi quel che costi allora il mio intento questa sera è proprio questo far dire ad ognuno di voi Signore io ti voglio seguire abbiamo letto nel capitolino precedente che seguire Gesù ha un prezzo altissimo ma le soddisfazioni spirituali che ne avremo in questa vita e poi nell'altra nell'eternità è qualcosa di imparagonabile a quelle che sono le sofferenze che forse vivremo le tempeste che forse affronteremo sì quelle situazioni spiacevoli nella quale non vorremmo trovarci io non penso che quei discepoli erano l'abbiamo letto contenti anzi erano spaventati a morte di attraversare quella tempesta eppure Dio la permise Gesù sapeva affinché la loro fede potesse essere rinvigorita allora questa sera fratelli e sorelle vogliamo andare al Signore e dire Signore io sono qui se sono mancato di fede ti prego aggiungi la fede se è salvezza che stai chiedendo perché ancora non hai fatto questo passo di Signore salvami perché senza di te sono perduto se stai conducendo una vita di servizio metti in conto che il nemico metterà tanti ostacoli dinanzi a te e proverà a fare affondare quella barca ma in Cristo Gesù noi siamo più che vincitori amè non ci sarà vento che affonderà la tua barca non ci sarà tempesta che la potrà far colare a picco indipendentemente dalla circostanza Dio ripetilo insieme a me rimane fedele amè e noi vogliamo credere con tutto il nostro cuore adesso ci rivolgiamo al Signore colui che sgridò quella tempesta una tempesta non normale colui che sgridò quel mare provocato a furia colui che sbarcò sulle rive di Gerasa e sgridò non soltanto il mare prima ma anche quei demoni che tormentavano quegli uomini colui che è l'onnipotente fratelli e sorelle se c'è qualcosa nella tua vita che di cui c'è bisogno che Cristo la prenda fra le sue mani beh questo è il posto giusto dove tu la puoi consegnare ed egli farà gran bonaccia amè chiniamo il capo in preghiera vogliamo gridare a Dio con tutto il nostro cuore dire Signore tu che hai azzittito l'avversario in quell'occasione ti prego continualo a fare nella nostra vita nella vita di questa chiesa nella vita di questo paese laddove tu ci manderai sì Signore fa che ognuno di noi possa servirti arrivare a quella riva costi quel che costi per proclamare che Cristo ancora salva libera e battezza Alleluia Alleluia